Dall'angolo la manda bersaglio! Una tripla da campioni! No! Giacchè! Ancora Giacchè! E i due su due! Giacchè in angolo! Lascialo tirare! No! 3 su 3 da 3! E' stato Giacchè ruba palla! La possibilità per affondare il contropiede! Può superare la metà a cappa! Ancora lui! Fallo! Antisportivo! Qui ci sta l'antisportivo! E ora è la partita di Giacchè in lunetta! Prima doppia cifra per in carriera in Serie B! Di grande personalità! Bravo no Giacchè! Un tiro apertissimo! Giacchè tripla! La tripla a bersaglio Giacchè! L'angolo per Giacchè è la tripla! Giacchè ruba il tempo a tutti quanti! Ne vanno a depositare! Il Giacchetto è un pochettino al dutto! Bentone e conferenze! Andiamo via! Bentone e segnando a Bruxinhos! Si! Get the f***! Ho ancora una copera di Giacchè! Sé che mamma mia! ид outra!!! Lo dice ma di Giacchè ma di Biaschè prolly! Grazie a tutti